di qual'Europa viviamo e che Europa vivremo? io non so francamente se le elezioni europee si avvicinano e la campagna elettorale saranno gli spazi e il tempo per far vivere una posizione di critica all'Europa reale cioè a quella che si è venuta costituendo e capace di indicare, seppure oggi in posizione di minoranza, una idea di un'altra Europa la necessità è evidente la crisi proprio degli equilibri mondiali la smentita più evidente della tesi apologetica della globalizzazione capitalistica su tutti i terreni, fino all'altro ieri erano quelli della giustizia sociale, della democrazia sono diventati quelli della contesa tra pace e guerra e la guerra non è un fungo avvelenato, cresciuto in un meraviglioso bosco che altrimenti avrebbe dato una possibilità di convivenza a tanti e a tanti no, in realtà questo capitalismo ha mostrato crescentemente le sue incompatibilità con ciò che avevamo ereditato di meglio dopo la vittoria contro il nazifascismo in Europa cioè quello che avevamo proprio ereditato è che ha mostrato un'incompatibilità con la democrazia ha mostrato un'incompatibilità con la possibilità di declinare il tema della giustizia sociale che è stato il grande orizzonte delle costituzioni democratiche e adesso mostra un'incompatibilità con la pace questo capitalismo ha plasmato l'Europa reale poi naturalmente possiamo discutere molto, va fatto, degli orientamenti politici della pratica legislativa, della costruzione delle opinioni da parte di quelle che sono diventate le classi dirigenti o almeno i ceti politici dirigenti dell'Europa ma la sostanza, diciamo così, è che questa Europa reale è stata proprio, come si può dire, il banco di prova uno dei banchi di prova, ma è fondamentale di questo costituirsi in istituzione politica del capitalismo finanziario globale e dunque il suo carattere oligarchico è venuto sempre più marcandosi naturalmente, insisto, non è un carattere inventato dalla dimensione istituzionale europea è il carattere prodotto dal concerto dei governi nazionali nel processo di costruzione dell'Europa politico-istituzionale non è che qualche governo può sottrarsi dicendo ma è l'Europa, no, è tu che hai fatto questa Europa politica e questa condizione oligarchica ha pesato tantissimo in un reciproco scambio con i singoli paesi che, diciamo così, hanno influenzato e poi sono stati influenzati da questo carattere in Italia lo vediamo in maniera un po' rompente fino al punto che avviene all'ordine del giorno da parte del governo una riforma costituzionale neo-autoritaria che si iscrive però dentro questo processo prende forza da questo processo e quindi, diciamo così quando arrivano i colpi e i suoni della guerra questa costruzione si rivela inebettita non ha niente, diciamo non dice niente perché non ha niente da dire perché nel frattempo ha visto morire dentro di sé la politica e quindi sta sulla scena come l'asino in mezzo ai suoni non ha alcuna capacità di attivare un protagonismo che invece sarebbe necessario in queste tante linee di faglia che sconvolgono il mondo contemporaneo una presenza dell'Europa se fosse, diciamo così un protagonista di pace avrebbe la possibilità di rompere quella rottura tra il mondo capitalistico e il sud del mondo che costituiscono la prima delle linee di faglia di questa realtà come si vede ormai, sistematicamente a ogni presa di posizione che riguardi diciamo l'invasione russa in Ucraina e il conflitto di guerra succedutesi con il ruolo invasivo dell'Occidente capitalistico e delle sue istituzioni o si arrivi addirittura come nella vicenda inaudita dell'ulteriore e ultima violenza nei confronti del popolo palestinese e sempre come si vede in tutte le posizioni prendiamo le bandierine dell'ONU perché sono le più semplici lo schieramento che si viene formando è da una parte l'Occidente e dall'altra il resto del mondo cioè la stragrande maggioranza delle popolazioni che vivono su questo pianeta stragrande qui si potrebbe cominciare un lunghissimo discorso sull'Occidente ma adesso qui ci fermiamo perché perché questo basta allora questa condizione di crisi che cosa richiederebbe richiederebbe il protagonismo di una forza o di forze sociali e politiche esplicitamente avverso a questo capitalismo e la sua natura è in grado di proporsi a partire dal conflitto sociale e dai conflitti civili come un'alternativa del modello sociale economico ecologico istituzionale europeo protagonista nel mondo di una nuova relazione tra Occidente e i sud del mondo cioè uno si ricorda il ruolo che ebbero i paesi e le forze neutraliste quando la guerra fredda svoltò verso le politiche di distensione di distensione mondiale periodo della destabilizzazione dell'emergere delle forze neutraliste guidate da grandi leader che occupavano la scena mondiale in maniera rilevante e oggi oggi ci sono i tentativi in questa scena tentativi annunci i brics una parte di questi almeno mentre l'Europa è desertificata e anzi l'Europa è totalmente interna a quello che chiamano Occidente e direttamente subalterna agli Stati Uniti d'America in un momento in cui gli Stati Uniti d'America non sono neanche più in grado di esercitare una leadership diciamo così riconosciuta come tale da tante parti del mondo e sulla quale incombe una competizione da parte della Cina che rivela gli Stati Uniti d'America in una difficoltà rilevante nel proporsi come guida dei processi mondiali questa necessità tuttavia non è in campo e questo è un disastro un vero disastro e non è in campo e io temo ma poi adesso finisco temo che al di là delle cose meritevole che si possono mettere in campo intendiamoci anche forse soltanto una testimonianza varrebbe la pena di spendersi per una testimonianza contro questa morte della politica nella morte della politica c'è in Europa la fine di quello che è stato il grande protagonista della politica in Europa cioè la sinistra del movimento operaio non le sinistre no la sinistra del movimento operaio la grande costruzione novecentesca che è arrivata fino all'altro ieri che è stata l'ultima grande stagione della politica quella stagione è stata come sappiamo sconfitta e coloro che non dovevano essere gli eredi hanno fatto dei tutti per non ereditarlo hanno scelto un'altra collocazione il problema quindi non è più quello di ereditare ma di reinventare una sinistra antagonista anticapitalista come suggerisce l'analisi dei processi temo che questo protagonismo ripeto non lo vedremo nella prossima campagna elettorale né nel prossimo ciclo europeo ripeto questo per me non vuol dire che non vengano non solo da apprezzare ma che non chiedono un grande investimento anche personale tutti i tentativi di far vivere una presenza politico istituzionale critica tutti ma a partire dalla consapevolezza che la rinascita di una soggettività influente non può che muoversi dal conflitto sociale come è questa cosa evidente dal conflitto in generale il tema della pace è uno di questi dal conflitto sociale imprescindibilmente la potenzialità più necessaria ed evidente della ricostruzione le femministe hanno usato dei termini utili per capire questa cosa quella della intersezionalità e laddove questa intersezionalità ha in qualche modo lavorato penso agli Stati Uniti dell'America noi abbiamo avuto un figlio connettivo che è andato dai Black Lives Matter amito nel grande protagonismo delle lotte alla rinascita del conflitto operaio sindacale e operaio al centro della produzione automobilistica americana a dire che tutti i fruttori della tesi sociologica secondo cui nel nuovo capitalismo nella nuova organizzazione del lavoro e nelle nuove soggettività impossibile il conflitto di lavoro dicono la strozzata che è smentita dai fatti e quindi diciamo così questa attenzione strategica sulla costruzione del nuovo soggetto secondo me è fondamentale e allora qualche conflitto c'è sarà in Europa appunto ripeto a cui non si deve non ci si deve sentire condannati di essere spettatori ma avere però la consapevolezza che non ne siamo protagonisti e che il protagonismo influente va costruito e quello sostanzialmente tra una nuova immersione di una nuova destra che noi facciamo male a vedere solo sotto l'eredità del fascismo dei neofascismi e che invece è proprio come dire una pulsione che nasce dentro questo tipo di capitalismo potentissima che in Europa si manifesta su un protagonismo che incontra negli altri stati d'America quel fenomeno che chiamiamo Trump e qui se uno guarda la Germania gli vengono i brividi perché perché dette fabole narrato cioè adesso al di là delle forme che prende è il carattere di una destra reazionaria e di popolo che sta emergendo e sta emergendo perché c'è un protagonismo un protagonista nascosto che ha una radice popolare profondissima e vastissima che è la diserzione del voto il voto europeo secondo me sarà segnato da una grande astensione e questa grande astensione dovrebbe costituire una riflessione profonda sul fare politica sul come fare politica e a chi indirizzare prevalentemente l'azione politica delle minoranze attive e creative perché quella è in primo luogo un'area di resistenza alla destra reazionaria che si presenta sul campo elettorale cioè vuol dire che lì non ci arriva quella destra lì così potente così forte così terribile in grado ogni volta di annunciare sfraccelli di individuare nemici avversari di combattere con tutte le forze là non arriva è come se ci avesse una barriera che non è la barriera nostra dell'opposizione di sinistra ma è la barriera popolare che si rivela per ora speriamo che dura impermeabile a questo uso del disagio sociale che quel popolo che non vota vive così acutamente in termini di uno spostamento a destra che come sappiamo negli anni 30 fu quello che dopo Weimar determinò la vittoria persino del nazismo fuori da questo diciamo campo che è il campo del popolo c'è il confronto tra le elite e nel confronto tra le elite c'è la presenza dell'altro protagonista che diciamo così sembra giocarsi l'alternativa con la destra che è l'area tecnocratica poi ha le derivazioni politiche ma sono secondari in realtà è ciò che ha governato l'Europa fin qui possono cambiare i nomi i personaggi ma siamo di fronte a un'area di centrismo tecnocratico che è quello che è vissuto come forma di governo concreto dell'Europa reale quindi la contesa prevalente è tra l'area del non voto che non è un'area amorfa è semplicemente un'area di non voto l'area diciamo arata dalla destra reazionaria da questa nuova destra che è proprio figlia di questo figlia diretta di questo capitalismo questo populismo di destra reazionaria e un centro più o meno assise dietro e dentro la sua pratica tecnocratica questo secondo me appunto dice che il tempo delle lezioni non è il tempo dell'attesa ma è il tempo di una presenza di resistenza critica che possa aiutare a guardare ai nuovi conflitti che si stanno producendo anche nell'Europa con questa visione però resa attuale da un'analisi socio economico istituzionale che vede il punto di attraversamento l'Italia da questo punto di vista è abbastanza significativa perché il tentativo di questa destra è di rendere storicamente irreversibile il processo con una contro riforma istituzionale in cui tutto il peggio che si è venuto accumulando venga consolidato a livello istituzionale riducendo gli oppositori a pure minoranze ed è questo io credo che il tentativo che bisogna sventare ripeto il terreno elettorale delle europee non è il più fecondo ma questo non vuol dire che non vada praticato è il terreno